Buongiorno a tutti. 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 della nazione, quella dedicata alla mediavalla garfagnana, leggiamo questo titolo, arrivano i migranti ma in strutture private e sul no di Coreglia esplode il dibattito, niente impianti pubblici a Bagni di Lucca, Camporgiano e Gallicano, la destra sta con Amadei, appunto il sindaco di Coreglia, ha il nostro appoggio, il suo è un atto di coraggio, ovviamente Valeria Amadei invece sindaco di centro-sinistra e vedete anche il Tirreno dedica un ampio spazio a questa situazione, i sindaci della Valle lasciati soli a gestire l'emergenza a profughi, il rifiuto del primo cittadino di Coreglia, Valeria Amadei scatena il dibattito fra gli amministratori, Giurlani, l'ex sindaco di Fabbriche di Valico che dice decisioni da condividere, mentre Rino Simonetti di Molazzana afferma gli immigrati vanno impiegati in lavori pubblici e allora andiamo a vedere il servizio che anche noi ieri sera abbiamo preparato visto che il dibattito è davvero molto acceso su questo tema, vediamo. Sono arrivati altri 50 immigrati in provincia di Lucca, sono quelli sbarcati sulle coste della Sicilia lo scorso marzo che sono stati distribuiti su tutto il territorio nazionale. A Lucca ad organizzare l'accoglienza tra i vari comuni è stata la prefettura che ha definito ancora una volta ottima la risposta del territorio. Vediamo come sono stati distribuiti i nuovi arrivi, sono tutti uomini in prevalenza provenienti dalla Nigeria e dalla Malesia. Il comune di Lucca ha accolto 20 persone nella struttura CEIS di via Pesciatina e in quelle del gruppo volontari accoglienza immigrati in via dell'Angelo Custode e sulla Sarzanese a Sant'Anna. A Camporgiano sono stati accolti 13 immigrati, a Gallicano 10 e a Bagni di Lucca 7. Sale così a 87 il numero complessivo dei migranti sbarcati negli ultimi mesi sulle coste italiane e accolti nella nostra provincia. Vedendo il dato della distribuzione complessiva ci si accorge però che a dare la disponibilità per l'accoglienza sono sempre gli stessi comuni. A Lucca ci sono adesso 27 migranti, nella piccola Camporgiano ben 23, a Gallicano 18, a Bagni di Lucca 11 e a Capanno Riotto. Non ci sono comuni versiliesi, sembra perché già alle prese con una grave emergenza abitativa, ma mancano anche altri grandi comuni della Lucchesia. E proprio in queste ore c'è stata la presa di posizione sull'argomento da parte del sindaco di Coreglia Valerio Amadei che ha detto no all'accoglienza dei migranti. In passato abbiamo aperto le porte del nostro comune a questo tipo di iniziative, ha detto Amadei, facendoci carico anche di situazioni di mala convivenza e di ordine pubblico. Oggi le condizioni sociali sono notevolmente cambiate, sempre di più sono i cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese. In queste condizioni, continua il sindaco di Coreglia, appare difficile destinare energie a favore di soggetti non residenti a scapito di cittadini residenti nella nostra comunità. Dovendo scegliere, conclude Amadei, è chiaro ed evidente che prima di tutto vengono i miei cittadini. Il ragionamento di Amadei è chiaro, che sia condivisibile o meno, e sicuramente su questa vicenda torneremo anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Fra l'altro vicenda è situazione che fa discutere, basta vedere la nostra pagina Facebook, la pagina ufficiale di Noi TV che sta viaggiando verso i 7 mila like, siamo a 6.990, dunque se ancora non l'avete fatto vi invito a cliccare mi piace per rimanere aggiornati su tutte le notizie che riguardano la provincia di Lucca, praticamente in tempo reale. Ecco, la notizia pubblicata ieri sull'arrivo dei 50 migranti ha scatenato davvero la reazione e i commenti di tantissime persone. Vi devo dire, e va, diciamo così, questo sottolineato, tutti i commenti negativi, nel senso di persone che criticano la decisione di accogliere i migranti, dunque sicuramente riflessioni e commenti che fanno riflettere su uno stato di sofferenza da parte delle persone, insomma che non vedono di buon occhio l'arrivo di stranieri, ma più che altro, come sottolineava Amadei, sul fatto che i comuni, gli enti già in difficoltà spendano delle risorse per delle persone che arrivano da fuori. Sicuramente questa situazione fa riflettere, insomma, c'è un po' di esasperazione da parte delle persone. Andiamo a vedere anche i due principali siti della provincia di Lucca, come aprono la gazzetta di Lucca e lo schermo. Ecco qua la gazzetta di Lucca che apre con la politica, la politica che si intreccia con la vita reale, però non più Equitalia nella riscossione dei crediti, c'è Lucca Holding Servizi. Se ne parla da tempo, secondo lo studio della SEPI di Pisa, che Bortoli, presidente della stessa Lucca Holding, considera concreto, sarebbe la soluzione più conveniente per il Comune. Dunque è un progetto che sembrerebbe destinato ad arrivare a destinazione, scusate il gioco di parole. Poi lo schermo, lo schermo.it, ieri sera il Consiglio Comunale Aperto a Nozzano sull'elettrodotto, le richieste dell'oltrecerchio sul rispetto di salute e ambiente e le spiegazioni di Tambellini. Ieri un Consiglio Comunale, come avevamo anche noi parlato, insomma, dopo l'assemblea pubblica dei giorni scorsi, un Consiglio Comunale dove i cittadini, le varie associazioni hanno espresso la loro opinione su questo progetto. C'è ancora tempo per le osservazioni. Torniamo a vedere i quotidiani cartacei, la Nazione a pagina 3, che torna appunto sul progetto, parlavamo prima di accoglienza di persone in difficoltà, ecco qua il progetto che divide, così lo definisce la Nazione, via Paoli, su ora un milione di euro, il costo complessivo dei sette alloggi, presentati i dettagli del piano, confermata un'attività di mediazione sociale. Via Libera alla scheda definitiva del progetto per sette appartamenti destinate all'emergenza abitative in via Brunero-Paoli. Dentro appunto non solo stranieri ma anche italiani, proprio in previsione del fatto che comunque si tratterà di un condominio per certi versi particolare, spiega la Nazione, il Comune ha previsto uno spazio in un altro stabile posto di fronte agli appartamenti per l'attività di mediazione condominiale e a accompagnamento sociale. Ampio spazio alla notizia anche sul Tirreno, ad agosto i lavori per le case in via Paoli, intanto è stato puntellato l'edificio cadente in cui verranno realizzati sette appartamenti per l'emergenza abitativa. Ad ERP Lucca sarà affidato il compito della gestione del cantiere, compreso l'arredamento degli appartamenti. I due quotidiani ci tornano sopra su questo argomento perché appunto il progetto che riguarda la città di Lucca ha passato la prima selezione da parte della regione, dunque l'Iter sta proseguendo come previsto. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme ancora e tante altre notizie che riguardano ancora la Piana di Lucca ma anche la Versilia. Fra pochi secondi.